Benvenuti a tutti ragazzi. Quest'oggi, come l'altra volta, torniamo su Fortnite, la Battle Royale. L'altra volta mi sono dimenticato di mettere classificato. Come vedete sono di livello 30, con 23 livelli in più dell'altra volta e oro 1. Direi di andare a giocare questa partita. Allora, questo video sarà dedicato più che altro ai nuovi aggiornamenti sul canale. Scusate il rumore che sto facendo. Ai nuovi aggiornamenti del canale. Abbiamo raggiunto i 900 iscritti. Tra un po' ci sarà lo speciale 1000 iscritti. Questo video lo sto facendo un po' per parlare mentre giochiamo a Fortnite. Il gioco più rilassante del mondo. Si sa che è il gioco più rilassante del mondo, Fortnite. Sto vedendo un po' cosa c'è nel negozio. E niente, direi di startare. Allora, se non l'avete già fatto, iscrivetevi e lasciate like. Allora, da 1000 iscritti in poi cambierà tutto, perciò troverete delle cose diverse. Troverete un nickname diverso. Proprio cambierà tutto. Perché il nickname, cioè Coffee Party del 235, mi sembra troppo. Non mi piace. Ho scelto questo sì, ma perché ce l'avevo su praticamente tutti i giochi. Non mi piace. Lo lascerò nei giochi per non cambiarlo, per ricordarmi di Coffee Party. Però, devo ancora trovare un nome per questo canale. Allora, se vi viene qualcosa in mente, scrivetemelo su Instagram. Su Instagram, Coffee Party del 2235, fino ad ora, poi lo cambierò. Tutto lo stesso. Coffee Party del 235. Comprate il mouse nuovo, perché mentre giocavo c'è stato un incidente, quindi ho dovuto comprarmi uno nuovo. Tutto luminoso, non mi lamento mica. Non ha già sto caricamento. Che taaaam. Sì, che taaam. Che incarichi scegliamo? Allora, non è che il giocatore nemico mi fra i diretti. Io direi questo. Mi sembra abbastanza facile. Andiamo a Piazza Piacevole. Sembra uno dei più adatti. C'è che l'informazione è suggerisibile. Sembra uno dei più adatti, Piazza Piacevole. Vado sempre lì quando gioco e mi diverto molto. Tra l'altro, vi porterò molto presto un mio amico sul canale. Chiamatosi Pablo. Pablo è una persona molto simpatica. È amico mio e di Nick. Naturalmente porterò anche Nick, se ha voglia, qualche giorno sul canale. Però Pablo verrà sicuramente in occasione di un evento molto bello. Cioè, cominciano una nuova milla su un'altra. Molto semplicemente. Vabbè, però... Appunto... Diciamo che siamo nati... Siamo scesi molto distanti da Piazza Piacevole. Infatti, secondo me ci saranno poche persone a Piazza Piacevole. Piazza Piacevole. Ok. Stiamo arrivando. Terriamo. Spero di... Io sento il rumore di un altro divizio. E ho paura che ora... Subito qua. Uh. Non mi ero accorto di avere questa mitraietta. Molto buono. Io ricevo 5.000... XP. Ma io non capisco da dove li tiro fuori sti 5.000 XP. Oh, una cassa. Che bello. Ok, legna. Mi potrebbe servire... Vabbè, mi servirà. Ma che bello. Vabbè, mi servirà. 25 26 ma che cacchio e abbiamo già una kill la kill lozza del giorno perché ci sono una cecchino se avevo l'incarico di colpire sotto c'è un'arma c'è c'è una cassa ma sono addormentato lo scudo allora io ho visto molti video di fortnite e lo scudo c'è chi non lo prendo vabbè e lo scudo e op sicuro l'avete visto già voi anche youtuber più forti di me ma lo scudo e op ok ce l'ho già però dato che più colpi non c'è un altro cecchino ok vediamo perché mi piace mi piace in particolare vediamo se no allora l'altro si è questo qua perfetto che per colpa a colpa utilizzo questo bellissimo scudo è veramente forte purtroppo sono vulnerabili da dietro però vabbè questo qua vabbè buttato stanno ma non era un po collegato non avevo manco visto l'ho tenuta non scioppandola neanche un'altra quella di natale l'ho tenuta non scioppandola ma semplicemente ok sì perfetto mi piace un sacco le fedi a percussione i perciò di fuggire ad assalto sono molto disagio allora ripeto prima ma porterò delle modifiche al canale partire dal nickname forse alla fotoprofilo vabbè ci sarà sempre un panda che è l'icona del canale però il nickname potrebbe cambiare perciò se vi trovate nuovi nomi e non sapete chi chi sono provate boh guardare un vecchio video vieni a prendere questa bellissima macchinina ok ok cosa no ok c'è un tizio c'è un tizio mi aspetta un tizio n' xi andate avete un tizio ma no ma non aveva neanche una pozione Non lo so Non mi piace Purtroppo non mi piace Mi serviva una mitraietta con mirino Ma purtroppo Questa qua c'è il mirino che ho Il fucile Posioni Ok là ci sono due casse Magari troviamo qualcosa Oh Quella era bella Però non vorrei chiudere niente Perché c'è mi serve tutto Là c'è un'altra cassa Vediamo se riusciamo a trovare Una pozione Noi prendo sti funghetti Sempre sparare Mi dovrei preoccupare secondo voi Secondo voi Allora per voi Mi mischio o resto lontano Qua vado da Le casse che ci sono lì Nell'accampamento Io sento sparare Ho un'impressione mia Perché ho visto anche le Le Come si chiamano le carghe Sopra Nella Nella bussola Possiamo chiamarla così Ma dai Io manco 6 mila di xp Ma cosa ho fatto per ricevere questi xp Ma manco una pozione Ma cos'è Io ho paura Perché ci sono alcuni Che giocano con me Che sono oro Cioè non c'è tanto da aspettarsi Io gioco da poco Ci sono alcuni che sono oro E hanno una mira Proprio assurda Pazzesca Cioè ma Proprio che C'è chi non uno in testa Come se fosse normale Come vorrei io Un rampino Cioè Vabbè avete capito Mi viene la parola Ma giusto Ma Giusto E vabbè Porca miseria No Comunque se vi stesse Chiede Se vi stesse chiede Vedendo Vimai Io Fortnite Mi chiamo Confiugati 2010 Perché 2235 Non me l'accettava Quindi Ho messo 20 Divido 10 Potevo mettere Settivamente anche 22 11 Però va bene Questa 20 Con la Cosa di Questo che vi dicevo E mi ha distrutto Mi ha distrutto E questo che vi dicevo Ci sono due Ci sono delle persone Con un mire assurdo E appena ti vedono Sembrano Deci Tai Vabbè Il 14 Niente male Due kill Vabbè Facciamo Un'altra partitozza Dato che siamo A 13 Minuti Ci prepariamo Intanto Vi invito A iscrivervi Al mio canale E a quello Di Nick Nick Ha aperto Da poco Il canale Perciò È come Tre mesi fa Lui fa Lui porta contenuti Su Pokemon Ed è un Un collezionatore Il canale si chiama Nick 500 Trattino Pokemon Collector È un mio fidato Amico Che porterò Su Fortnite Ma anche su altri giochi Però Effettivamente Prima Quando sto qua Mi ha ucciso Io potevo Buildare Ma non l'ho fatto Non mi è venuto Mi è venuto Spontaneo Con tiraria Sparare Che Però io ho rotto Tutto lo scudo E quindi Vabbè Io ho fatto Anche io male Però Non come volevo Diciamo Ok Vuoi che Tra un po' Starta Più veloce Che vogliamo Che vogliamo Morire Andiamo Corpo a corpo Con tutti Te Te Proprio Vado A Vado Ci sono sempre Tante persone Vado Rotaie Che Tante persone Che Tante persone Non scopo niente. Ok. Ho subito qua una pozione scoputo. No, sono scemo. Patera che mi ero distratto. Ci facciamo un po' qua? Io se cado che lo danno, quindi non vorrei buttarmi. E niente. Non ho preso danno, che bello. Però ora mi cecchino non tante, quindi sono triste lo stesso. Ok dai, mi piace. Se vedo qualcuno... E lo spapazzo. Let's go, let's go. Sì. 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 Qua c'è una cassa. Bello. Questa qua è la mia arma preferita dopo i cittadini. Tenos, porca... Vabbè, è andata così. Ragazzi, iscrivetevi, lasciate like e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie.